Ciao, sono Norman, mi occupo di assistenza clienti e questa è Campagnola Academy. Benvenuti! Sai che tutte le nostre forbici sono dotate del sistema antitaglio del filo di cortina? Vediamo come funziona. Mettendo la mano sul cavo d'acciaio, appena la lama o fissa o mobile tocca il cavo d'acciaio, evita il taglio dello stesso. La funzione antitaglio del filo di cortina è attivabile e disattivabile tramite questa sequenza. A forbice spenta, tengo premuto il pulsante di accensione fino a che non sento il terzo segnale acustico. Primo, secondo, terzo. Ora la funzione è disinserita. Grazie. Grazie a tutti.